Ieri si è svolta l'Assemblea Nazionale di tutte le proloco d'Italia, è stato riconfermato Nino Laspina, un grande Presidente nazionale, quindi per noi è un grande orgoglio. È chiaro che in tutto questo si è parlato di problematiche proprio legate al Covid e proprio la difficoltà che abbiamo è proprio questa. Tutte le proloco sono ferme, stiamo ragionando su cosa fare, ma a livello nazionale c'è una forte preoccupazione chiaramente. Non solo eventi, con le nuove misure del DPCM sono stati cancellati anche i mercatini di Natale che nel nostro territorio soprattutto raccoglievano tanti turisti e tanta partecipazione. Io sono fortemente preoccupato perché non solo abbiamo dovuto annullare chiaramente come giusto che sia tutti gli eventi natalizi che portavano un'economia molto importante sul nostro territorio, ma soprattutto abbiamo bloccato tutte le proloco che gestiscono anche tutti i poli museali del nostro territorio. Abbiamo invitato proprio oggi una lettera al Presidente della Regione Acquaroli per chiedere un incontro per poter parlare di tutte queste problematiche, perché le proloco sono in difficoltà. Fino adesso nessuno ne ha parlato, nessuno ha detto niente, però noi abbiamo una forte difficoltà e chiediamo a gran voce per tutte le proloco delle Marche, assieme anche al nostro Presidente regionale Marco Silla, un incontro urgente con la Regione per poter definire un piano di aiuti anche alle proloco, perché non solo le interruzioni di tutti i mercatini di Natale, ma molte proloco gestiscono i musei, gestiscono attività, hanno alcuni dipendenti all'interno, quindi io ritengo che sia doveroso su questo che la Regione apra un dialogo. E devo dire che c'è stata piena di disponibilità dell'assessore Baldelli di Pergola e di Luca Serfilippi a seguire un po' tutto l'iter delle proloco, quindi devo dire che c'è un'apertura da parte della Regione, c'è disponibilità, attendiamo che ci diano una risposta anche per un incontro. E' chiaro che tutte le proloco sono in difficoltà, c'è grande fermento soprattutto su tutte e soprattutto le nostre 68 proloco per la provincia di Peso Urbino, perché porto un esempio, la proloco di Sassocorvaro che gestisce la Rocca, Monbaroccio che gestisce i musei, con i musei chiusi non ci sono entrate e chiaramente le proloco rischiano veramente tanto. Rischiano veramente tanto e quindi dietro anche a tutto l'indotto economico che le proloco creavano a tutti gli alberghi, i ristoranti, basti pensare che solo nel periodo natalizio portavamo nella nostra provincia 260 mila turisti. E se noi fermiamo, cioè non è solo il problema per oggi, ma se noi fermiamo le proloco, poi il prossimo anno chi riorganizza i mercatini di Natale? E' per questo che ci vuole un aiuto concreto, sostanziale anche ai presidenti delle proloco che comunque rischiamo del nostro.